Benvenuti in questo video, io sono Simagraphics e qui siamo su un video selfie un video molto più leggero, così almeno lo calico subito sul canale e così da comunicarvi quello che è video a comunicare perché in questo periodo mi sono accorto che non riesco tanto a stare sul canale con video, un po' con editing video, quindi curati e per mettere un video ogni tanto faccio così di farvi dei contenuti sì di spessore, quindi comunque vi voglio comunicare qualcosa quindi facciamo dei video, faccio dei video di comunicazione però molto più leggeri, quindi senza montaggio di video pesante magari lo monto un attimo sull'iPhone con iMovie, poi lo carico qui sul canale ma andiamo al fattore di come avete letto dal titolo quindi recensioni di Black Sea sono andato al cinema a vedere questo film e davvero mi è piaciuto molto perché parla di questo gruppo di persone dove vanno in questo sottomarino a prendere cosa? un tesoro e la storia è un po' una storia di azione una storia quindi dove ha dietro anche comunque un filologico e fa anche molto riflettere questo è il punto dei film che voglio andare a vedere sempre più spesso quindi dei film dove fanno pensare come può essere alcune parti di Fast and Furious che sono andato a vedere molto bello a confronto tra Black Sea e Fast and Furious forse non c'è quella potenza mediatica che ha un film come può essere questo Colossal di Fast and Furious Fast and Furious dietro ha avuto una potenza mediatica quindi di pubblicità fortissima quindi è comunque un film che non si deve sorprendere se è stato primo in Italia e primo nel mondo quindi perché talmente gli hanno fatto pubblicità che davvero mancava solo che anche gli animali andavano a vedere Fast and Furious però chiuso questa parentesi andiamo alla recensione allora Black Sea adesso non mi viene in mente il regista però ve lo metto qui comunque ve lo metto nel video è un regista dove adesso non lo conosco e quindi adesso poi andrò a fare una ricerca però come film come è stato girato è stato girato molto bene hanno le parti di azione dove devono stare cioè un film per essere ben comunque con un'attenzione da parte del pubblico costante deve avere delle parti di azione questo è fondamentale comunque questo lo sappiamo anche in un video se io qui starò a parlare per esempio di di clorofille delle foglie per mezz'ora che quindi di cellule parlerò di foglie per mezz'ora forse il video potrebbe annoiarvi però mettendo per esempio delle azioni in mezzo allora c'è comunque una costante attenzione da parte del pubblico ma ritornando al film allora il film Black Sea è un film che io reputo che è stato girato molto bene con delle parti di azioni dove devono stare un esempio è c'è questo sottomarino sono sott'acqua quindi non è un sottomarino che per esempio per una parte di un film sta in superficie ma tutta tutta la durata del film sta sott'acqua dove deve stare un sottomarino passa in questo canyon sotto sott'acqua urta un comunque una parete di questo canyon e lo fa però con prima una parte tra virgolette morta quindi si vede questo sottomarino che passa in questo canyon non si sente più nulla quindi è un punto dove dici va bene questa è la scena mi rilasso ti parte questo suono di comunque di raschiamento di questa di questa parete e lì ritorna l'attenzione del pubblico davvero questo mi è piaciuto mi è piaciuto anche molto la storia allora c'è questo gruppo di persone dove vanno a cercare l'oro in questo sottomarino il sottomarino è un sottomarino che è stato è stato affondato non mi ricordo se è stato affondato oppure ha avuto problemi ed è affondato affondato a 90 metri sotto la superficie del mare vicino alla georgia vicino no la georgia no ma vicino comunque vicino alla russia alla era vicino alla russia sì era vicino a russia mar nero forse mar nero perché parlavano anche di turchia quindi era mar nero russia mar nero in quelle zone lì quindi c'è questo sottomarino che loro raccontavano una storia i tedeschi hanno messo l'oro dentro non è mai arrivato in russia è comunque sceso nelle profondità del mare e quindi loro dicono beh siamo stati sono stati licenziati da un'azienda e cosa dicono bene siamo stati licenziati non abbiamo più lavoro qual è l'unica occasione di prendere un altro sottomarino scendere nelle profondità prendere l'oro e poi cosa ne stiamo bene un po' di genio e poi parte la storia parte la storia subito dopo 20 minuti di video 20 minuti di film parte subito il film ed è questo un punto dove io lo metto nei punti a sfavore perché se l'azione mi se la storia me la fai iniziare subito poi il pubblico cos'è sa già tutto e quindi dice posso anche non vedermi la fine però so già la storia cioè so già lo svolgimento ed è questo un punto a sfavore potevano prolungare leggermente di più lo svolgimento quindi magari tenerlo più a lungo più lungo quindi farlo andare alle lunghe e non così alle strette ok non c'è stato proprio subito cosa facciamo pam sottomarino sott'acqua oro bene prendiamo sottomarino bene equipaggio bene fatto quindi così molto veloce però comunque è stato un film molto bello molto bello non in 3D quindi film normali in 2D però comunque l'utenza del pubblico allora io sono andato il giorno dopo dell'uscita in tutte le sale in uno spettacolo diciamo centrale quindi quello delle 7.20 era il 7.20 e poi c'era un altro spettacolo alle 10.20 quindi comunque è uno spettacolo dove ha anche una portata di pubblico più ampia rispetto a quello delle 10.20 e la sala era piena quindi davvero penso che sia stato anche molto apprezzato è un film di azione un film come quelli che li danno in televisione quelli ad alta tensione comunque dei film molto belli e queste sono le mie impressioni su questo film visto che in questo periodo mi sto facendo molto di più rispetto a prima al mondo del cinema se escono altri film che io reputo che sono belli e vi voglio portare le mie impressioni sul canale farò sempre questi video quindi di queste riflessioni queste riflessioni sono il giorno dopo magari un altro film faccio le impressioni subito dopo all'uscita della sala e per questo video è tutto vedo che state davvero sincronizzati sul canale di Stimografix mi fate tanti commenti e vi ringrazio lasciate anche molti like per sapere se questo questo tipo di video vi piace se vi può piacere anche un proseguimento di questi video quindi questi video leggeri però comunque con contenuti e anche apprezzo molto che siamo quasi 80 oppure siamo 80 davvero grazie mille purtroppo io ho questi tempi di nebbia diciamo quindi che non carico video però adesso voglio caricare più video così leggeri così almeno siamo sempre attivi sul canale davvero grazie mille continuate a seguirmi e grazie ai futuri iscritti che si iscriveranno al mio canale grazie a tutti da Simografix è tutto ciao